Del secondo tempo, il Noceto Dance Club di Palma, direttore artistico Erika Ferrari, Cabaret Rishap, con i più grandi successi di Raffaella Cadà, Lorena Tutterini e Eder Parisi, coreografie di Erika Ferrari e Andrea Centi. Sì, signore, signori, Raffaella, barra. Ma che sera, ma che sera, questa sera, questa sera, io mi sento, così bene, così bene, facciamo e facciamo qualche cosa, qualche cosa, io e te, io e te. L'ho incontrato l'altra sera e ho sentito un tuffo al cuore, ma nessuno sa neanche, neanche lui. Non volevo che sapesse come sono innamorata, sospiravo solamente dentro me. ... ... I'm a rugged soul, a lucky as a girl I've come very far, a lucky as a girl Maybe tonight, Emma will hear me And she'll be the person that's for the show I'm just fine, I've got no flowers If I'm such a murky lady Cause the morning's coming, baby I've got no love, I'm a young I'm a rugged soul, a lucky as a girl I'm a rugged soul, a lucky as a girl I'm a rugged soul, a lucky as a girl I'm a rugged soul, a century yes Non mi sento sicura, 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 vai Questa sera vorrei tornare io e te con me Questa sera vorrei tornare io e te con me Non mi sento sicura, 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 sicura C'è la mia palestra quando lui mi disse già E mi chiede di portarmi a casa sua Ma c'è la mia palestra perché ci sono andata Corrento solamente a quello là Noi non vengono consolare Ra-da domani c'è illumina Che gioca tra il capitolo Grazie a tutti. Grazie.